e si entriamo direttamente in voce perché salutiamo anzi concludiamo questa cavalcata per raccontarvi la sessina del premio strega veloci 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 perché mancano cinque minuti e manca un solo libro si manca un solo libro si tratta di romanzo senza umani di paolo di paolo pubblicato da feltrinelli la storia è quella di mauro barbi che è uno storico uno storico del clima anche nel senso che lui in particolare ha studiato nella sua vita una glacia le glaciazioni e una glaciazione in particolare avvenuta negli anni nel 1500 del lago di costanza sembra insomma una cosa che non c'entra ma in realtà a che fare con la glaciazione diciamo dei ricordi delle parole questo mauro barbi è fissato con i ricordi che gli altri hanno di lui quindi come gli altri se lo ricordano e a un certo punto decide di fare un viaggio verso questo lago di costanza che un po un luogo simbolo no del suo studio della sua storia del suo amore per la storia e contemporaneamente cerca un po di riannodare i rapporti con persone del passato con i qua con le quali lui sente di aver qualcosa in sospeso quindi recupera mail scritte dieci anni prima risponde manda messaggi cerca di riannodare con la donna della sua vita del passato ma anche con compagni di liceo perché perché vuole controllare un po il il ricordo che gli altri hanno di lui fa un carotaggio nella sua memoria esatto praticamente si cerca nella sua memoria ma soprattutto in quella degli altri perché lui vuole vuole che che tutti si ricordino cioè vuole avere il controllo ecco su come gli altri si ricordano di lui è una cosa diciamo complessa interessante un libro che effettivamente secondo me almeno nel mio caso ha richiesto un paio di letture nel senso che per una prima lettura era rimasta abbastanza sconcertata perché è un libro molto diverso dalla produzione precedente di paolo di paolo anche a livello di linguaggio sembra quasi veramente scritto non dico da un'altra persona però insomma come è diverso è proprio diverso e quindi mi ci ha voluto un pochino però nella seconda lettura devo dire che sono venute fuori tutta una serie di cose che nella prima forse anche veloce perché l'ho letto insieme agli altri sei e non avevo colto è un libro che forse è più di altri a dei livelli diversi di lettura comunque molto particolare molto interessante ringraziamo i tante le tante persone che si sono affacciato in questa trasmissione abbiamo appena concluso è volato veramente a volo radente sulle sei le sei i sei titoli del premio strega il 4 luglio ci sarà la serata finale e si decreterà il libro vincitore del premio strega 2024 se volete un pochino più di profondità un pochino più di approfondimento sappiate che già disponibile sul canale di letture metropolitane il incontro con tutti e sei moderato da flavia con gran finale veramente gran finale non vi dico altro ma forse qualcosa avete già visto tante persone hanno scritto grazie davvero ma vi lasciamo con prima della sigla dei make flies go time la viva voce di paolo di paolo che parla racconta proprio questo suo questa no sua nuova scrittura anche questo suo rapporto con la scrittura partendo da un input che flavia aveva portato cioè inside out 2 esatto noi ci risentiamo la prossima settimana allora sì ciao la vecchina del del film inside out 2 non l'ho già screenshottata diciamo sta nei miei nella mia galleri anche se non l'ho ancora visto il film perché trovavo adorabile il fatto che i geniali disegnatori e sceneggiatori avessero immaginato che nella mente di riley questa adolescente che appunto nella prima parte di questo racconto era abitata da emozioni semplici comincia a vivere emozioni più complesse come è normale che sia sulla soglia dell'adolescenza in realtà la grande protagonista è ansia che poi non t'abbandona mai mentre la nostalgia appare comunque in modo intermittente anche questa mi è sembrata una cosa geniale ci sono momenti in cui siamo più inclini a riguardare il passato a ripensarlo sono momenti anche di di contrazione di qualche volta di chiusura e anche di paura o di sfiducia nei confronti del presente del futuro altre volte invece nello slancio della proattività ci sembra di non avere più bisogno di pensare nemmeno a come eravamo però credo che ci sia da marcare una distinzione abbastanza netta tra la nostalgia l'uso pubblico della nostalgia e l'uso privato della nostalgia la nostalgia sul palcoscenico della politica o del discorso pubblico è sempre pericolosa quasi sempre non c'è quasi mai un momento in cui se tu evochi un passato come modello come misura delle cose non sia già di per sé contene non contenga già di per sé una matrice reazionaria c'è una sorta di pericolosissima allergia al cambiamento nell'uso pubblico che si fa della nostalgia e quando una collettività come oggi si può vedere diciamo a diverse latitudini non riesce a pensare nemmeno già al futuro che può essere anche un alibi concettuale ma al presente per l'appunto e si richiama a radici a valori a tradizioni è molto molto scivoloso questo sempre perché in qualche modo siamo portati e quindi dobbiamo trovare degli anticorpi a pensare che l'età dell'oro è alle spalle questa è una costante della storia umana non c'è stato un momento in cui chi è venuto chi ha vissuto un dopo un dopo la rivoluzione non ha rimpianto quello che c'era stato prima no e naturalmente era un fatto anagrafico è un fatto di disorientamento di fronte alle trasformazioni quindi credo che questo sia pericolosissimo e oggi anche diciamo da fronti da cui non ci aspetteremmo il contrabbando di nostalgia invece arriva la nostalgia come se appunto il paese questo e altri fossero bloccati in un sogno di loro stessi che è un sogno marcio un sogno ambiguo un sogno tossico perfino nel caso invece della nostalgia privata lì possiamo effettivamente metterci nella condizione di pensare che non sia soltanto una questione di rimpianti perché è vero che il rimpianto produce anche lui delle tossine che ci impediscono poi di metterci di fronte a quello che accade quindi come diceva donatella magari alla lunga smettiamo di vivere c'è un personaggio di borges molto famoso da diventare proverbiale che è uno che non dimentica nulla si chiama funes il memorioso ed è uno che non dimenticando nulla non vive più quindi c'è necessariamente una parte di oblio il mio personaggio oggettivamente crea no questa dialettica tra memoria oblio vorrebbe costruire questa memoria però sente che poi la memoria si polverizza anche la propria negli altri e sto per concludere questa volta dicendo che in realtà quello che ma invece a me come autore fin dall'inizio mi ricordo il rimprovero di un critico adesso mi verrebbe di voglia di parlare di un altro critico che voi conoscete però non lo so adesso voglio perché l'ultima serata uno potrebbe anche insultare i critici però vabbè sì ma così nel senso che poi non capiscono un cazzo e poi in ogni caso è interessante perché dentro inside out c'è più intelligenza che in certe recensioni ma questo succede però a parte le battute che non sono battute però la questione che mi interessava sulla quale davvero chiudo è che non c'è soltanto la dimensione del rimpianto io credo che ci sia e l'hanno detto un po' tutti tutte i miei compagni e compagni di viaggio la dimensione del perduto cioè non è detto che quel perduto sia buono cattivo sia da rimpiangere o da non rimpiangere è in quanto perduto che qualche volta ci sconvolge cioè il fatto stesso di dover dire con un tempo verbale preciso era e questo mette in difficoltà uno scrittore oppure proprio perché lo mette in difficoltà come mette in difficoltà ogni essere umano lo incentiva a riattivare l'intensità di un presente cioè a vedere un passato come un presente o un futuro che sta per cominciare se tu la storia della tua autobiogrammatica la vedi non come qualcosa che è alle spalle ma come qualcosa che sta per cominciare come se tu risalissi la corrente allora le vite di chiunque diventano incredibilmente affascinanti minacciose avventurose tutto sta sempre per cominciare nel bene e nel male lo scrittore secondo me si incarica di fare questo quindi sente la violenza la radicalità del perduto di qualcosa che comunque non è riattivabile e lo riattiva come quelle scosse che dai quando devi davvero far tornare a battere un cuore quella scarica elettrica e la scrittura grazie questo mi mi solleva molto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti